hola 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 da berro e di nuovo dal tarfone e siamo arrivati a livello 5 che sembra già un dedalo mostruoso e qui c'è un saladino viola che c'è già quattro vite i bastardi figlio di puttana che male e fa un maluccio aia bastardo c'è max per colpa tua e dei ricordi del passato sto guardando la lista dei giochi di cog di cog ah gog si 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 chiaro chiaro che ragazzi per chi è giovane cioè nessuno perchè se state guardando questo videogioco vuol dire che siete vecchi nell'anima esatto ma però se non avete conosciuto i cari vecchi giochi che hanno fatto la storia dei videogiochi di adesso io non sto scherzando andateci sopra, trovate di quei giochi che come grafica non vi do non vi do ragione che fanno schifo perchè sono dei giochi secondo me che a quell'epoca e ancora adesso hanno una grafica e un gameplay da far paura no figlio di puttana e muori c'è l'ombra nera che mi ha acciullato la pozione porca puttana perchè probabilmente il max se lo ricorderà un certo baldus gate eh 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 no non me lo ricordo non me lo ricordo proprio per niente se si voleva finire tutto penso che i mesi non bastavano altro che dragon age di adesso oddio aspetta com'era questo qua devo farlo morire sulla pedana per aprirla no non è possibile ma scusa ma due vite non ce la farò mai condoglianze mica mi sento vecchio mi sa che tanta gente si sentirà vecchia basta basta eh si tanta gente si sentirà vecchia mettete un mi piace se vi sentite vecchi basta saladini porca puttana questo ha 5 vite tarfino 2 che cazzo vuol dire? che devi essere bravo ti ricordi saladino ciccione mica ragazzi lì penso di aver imparato non dire dire le bestemmie ma dire le parolacce ehhehh casooo ok non ho perso neanche vita dai cosa bisogna fare adesso? Oh qua c'è una pozione dois vite sono troppo poche glo glo andiamo un po cosa c'è di qua Vabbè questa qua lasciamo anche stare Che magari No cos'è sto casino No niente è già spento Sono in pubblicità di merda Sì ragazzi Saladino verde 5 vite Non posso sbagliare Perché altrimenti casco di sotto Ma che cazzo Tipo più gli cambia il colore Diventano scuri Più sono bravi Adesso il verde Tipo un saladino di livello ancora più alto C'era una parvenza di AI Ma una parvenza molto parvenza Allora io faccio così Ah così E vabbè Questa qua la facciamo di due livelli Perché alla fine è già passato Questo livello che stiamo già facendo Quindi già va va Vediamo quanto tempo è passato 43 minuti ci mancano per finire sto gioco E non si può salvare E non si può resettare Che meraviglia Sì abbiamo capito che sta troia Ancora qua con la clessidra Dai Ah ma te lo vuoi fare tutto di fila proprio Eh non si può fare altro Tarfone Vediamo 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 Blam Level 6 43 minuti left Max se vuoi c'è il bando di concorso Per fare il militare per tre settimane Vuoi andare? Ma perché dovrei fare una cosa così stupida Anche perché mi tagliano i capelli Cioè no Allora Adesso faccio così Porca puttana No non si faceva così Tarf Non vedo Non mi ricordo Porta pazienza Avevo se no Cazzo Quando ci ho giocato Cazzo Tarf Sto continuando a morire come un cencioso bastardo E continuerai a farlo Tranquillo Eh si E che non mi ricordo C'è un episodio tipo che devi Devi saltare Però devi prendere anche la rincorsa Ma non troppo Solo un pochino E allora un po Faccio così Perché se salti troppo in là Si se salti troppo Ci sono gli spuntoni Saladino ciccione Tarf Ciao Raider È stato un piacere Alla prossima Figlio di Penso se vivi il messicano Sono concentratissimo Eh Dai Bastardo Vedete che tipo si fa anche un gioco di parate Questo bisogna premere anche il su del tastino Cioè è come se stessi saltando Allora fai ding 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 Ci perdevo tipo 20 minuti a botta ogni volta Dai ciccione di merda Oh È morto il ciccione di merda Tarf Ho affrontato E si usavano solo la tastiera Allora Non esisteva il mouse Micchia Basta Oh Cristo E adesso cosa devo fare Allora Se vuoi ti sparo anche un certo Populus Opla Sì ma sei bastardo Madonna mia Mi sono ricordato che a livello 7 c'è l'ombra che ti chiude il carcello in faccia Quindi devi cascare verso il basso Boh Sto episodio sarà lunghissimo ragazzi Mi dispiace O anche no Saladino blu con 4 vite Vedete che questo è un po' più sega in teoria O forse è meno sega ma ha meno vite per controbilanciarlo Chi lo sa I tocchi di classe sono quando riesce a spingere il saladino oltre le porte taglienti E allora lo taglia in due Quello là è molto bello Ma è un colpo di classe che non sempre riesce Eh no Ecco vedete Oddio adesso No Porca puttana Cazzo Che mi cascano in testa le paratiette Ah Sì Che palle Sbang Sbang Ok Saladino arancione con 4 vite Muori Dai Dai C'ho male dagli occhi per le lente a contatto Ma non posso chiuderli perché sto combattendo Ok Opla Questa qua la devo prendere per forza Cioè perché è facile da prendere Ok Andiamo se quell'ombra di merda Allora Così Chissà cosa ho aperto Ho aperto questo Non posso Stai zitto Cosa ridi Mentecatto Scusa Max Stavo leggendo la striscia di oggi Di griff Ah ok Si fa così Vediamo un po' se si va di qua Ma cosa Non so giocare Ti ripeto Se non condividiamo lo schermo Faccio fatica No non mi ricordo ti giuro Io sto andando tipo a random in questo momento Tipo Seguo un po' Altri saladini E qui E qui devo per forza Chiudermi la porta alle spalle E questo qua È un saladino Bastardo Figlio di puttana Via 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 Deve morire lontano Da quel gradino del cazzo Perché altrimenti mi chiude La paratia Capito? Come cazzo si gioca Sto gioco Oh Ok Eh Max Scusavo la testa una volta Madonna santa Ma non ti viene Cosa devo fare adesso? Devo correre di qua Bang Bim Bang Qui cascan cosa Qui c'è una doppia paratia Ok È la prima andata È la seconda Bang Oh Ok Questo? Ok E qua L'avevamo già ucciso E adesso? Ah sì Adesso devi bere la pozione Quella là Che ti dà la long fall Capito? Tarfone Vabbè Beh smettila di farmi Venire i ricordi E fammi sentire ancora Per questo episodio è tutto ragazzi Da Berro E da Tarfone Adios Adios Adios